ragazzi iscrizione al canale gratis e campanellina se vi fa piacere iscrivetevi al canale basta un clic ora ci siamo tutti sfogati no eravamo tutti imbestialiti qualcuno lo è ancora come me bisogna guardare il lato positivo c'è ancora tantissimo tempo per recuperare io non sono piangina non mi attacco mai agli errori arbitrarie anche se guida fa un arbitraggio scandaloso a san siro lasciando dei falli killer al bologna impuniti perché non ha mai quasi ammunito nessuno e bologna menava poi ragazzi il rigore di lautaro quello è un fallo può fare solo un attaccante difensore non si attacca un quarto d'ora alla maglietta dell'avversario la fare un attaccante non sa fare i falli dal difensore ma a parte quello comunque ora c'è la cardinale league sappiate che ora quest'anno dopo la morte di berlusconi c'è la cardinale league dove il var ha cambiato le regole perché finalmente ieri sera dicevano che il gol era da annullare dove è stato ammesso in eh in genoa milan lo stop di bicipite quindi sappiate che ad oggi lo stop di bicipite è valido ma è valido solamente per il milan quindi la cardinale league eh quest'anno ha fatto sì che eh fosse introdotta un'altra regola ovvero sia lo stop di bicipite il problema che il milan sulle nostre disgrazie si motiva capito quando noi andiamo va male loro trovano le motivazioni nelle nostre disgrazie la stessa identica cosa che accante l'anno in cui gli abbiamo regalato gli abbiamo messo su un vassoio d'argento lo scudetto stanno facendo uguale loro prendono motivazioni guarda caso poi spesso giocano sempre dopo di noi loro prendono motivazioni dalle nostre disgrazie giornali hanno già incominciato giuse ma all'inter non parla nessuno ma all'inter non parla nessuno vuoi per indicazioni ragazzi della proprietà e vuoi anche per evitare domande scomode parliamoci chiaro perché la prima domanda da fare è quella di dire ma come fa un presidente nulla tenente ad avere una scuola di calcio e ad andare avanti questa domanda non gliel'hanno mai fatta ad antonello quando parlava di stadio e quando venne in saudita giù a vedere san silo perché venne un saudita a vedere san silo vi ricordate antonello parla di stadio nessuno gli ha di antonello come fate a fare uno stadio avete trentuno milioni di debiti con il comune di milano come fate a fare lo stadio voi quindi l'inter non parla anche perché vuole evitare delle domande scomode perché fateci caso la stampa contro fino a un certo punto ma le domande che gli dovrebbero fare sia a zanghe che ormai è scomparso che a marotta non vengono mai fatte ragazzi bisogna essere sinceri bisogna essere leali bisogna essere corretti perché ripaga sempre fidati marotta la juve rompeva i coglioni anche per un fallo laterale te l'ho detto ieri non dato andava in televisione all'inter ti fa rigiocare la partita di bologna se marotta fosse stato alla juve te col kaiser rigiochi la partita di bologna l'anno in cui abbiamo regalato lo scudetto al mina ragazzi parliamoci sinceramente sono migliorate le perdite attenzione io voglio sottolineare una cosa anche in vista della live che faremo con i ragazzi tra qualche giorno sono migliorate le perdite ma cosa vuol dire sono migliorate le perdite ma sono diminuiti gli attaccanti se proprio lo vuoi sapere penso si veda hanno preso due pensionati di 35 anni perché non avevano più soldi in panchina hanno bisse che non è presentabile in serie a quel ragazzo ancora quel ragazzo va preso messo su un pulmino mandato a torino da iurice ripreso tra tre anni a livello tattico è impresentabile quel ragazzo non per nulla lo hai pagato 7 milioni in tre rate non sempre la cifra rispecchia il valore del calciatore sono d'accordo ma quel ragazzolino non lo puoi presentare nemmeno a San Siro quindi anche lì vedi che a Darmian gli tocca fare il sostituto di Danfris e sostituto di Pavard perché Danfris non ha un sostituto perché perché ha un ex gobbo bollito sulla fascia che è quadrato ecco perché perché anche lo stesso Danfris non ha un sostituto perché è quadrato nemmeno nelle amichevoli lo sto chiamando anche per nome l'ex il numero 7 che giocava alla Juve non è mai partito titolare nemmeno nelle amichevoli perché perché un giocatore bollito che non è in grado di partire mai titolare quindi Danfris sarà costretto a giocare sempre se non farsi sostituire da Darmian in caso da Pavard ma Pavard non vuole giocare in quel ruolo lì attenzione cioè questo bisogna dire poi migliora cosa migliorano le perdite quest'anno Ritter ha perso 85 milioni ok ma questa perdita che succede viene rinviata come tutte le altre perché ci sono centinaia di milioni di perdite rinviate questo lo sapete vero vengono rinviati che fine fanno questi 85 milioni bisogna chi le paga subito lo sapremo a fine ottobre 20 la Juve quei gobbacci malefici dove sono ora 123 di perdite 200 di ricapitalizzazione di cosa vuoi ragionare migliorano le perdite ma c'è sempre un biliardo e più di debiti nel lì diminuiscano le perdite ma ci sono sempre ci sono cioè ragazzi ci sono sempre delle perdite pregresse i bondi il prestito dove vuoi andare ogni cinese dove a parte in zaghi e i suoi errori che continuerà a fare sempre vedi discorso dell'allenatore io un po' ho giocato a calcio bene nelle giovanini anche a livelli abbastanza alti lo posso dire molti di voi lo sanno poi io la mia carriera tra un po' non è nemmeno incominciata perché poi mi sono ritrovato a 22 23 anni in promozione in eccellenza perché non non avevo la testa per fare il calciatore ho avuto la fortuna di giocare con stovini 130 presenza in serie a te lo ripeto con corrati con flachi nelle giovanine ho giocato un dei fenomeni io non ero bravo come loro ma ho assaggiato un po' respirato un po' a livello giovanile il livello alto del calcio ho fatto qualche torneo internazionale poi ti ripeto non ero bravo con questa gente qui che è arrivata anche in nazionale ti metti ci sarei stato anche io non ero bravo per vari motivi soprattutto per un discorso di testa ma quando te affronti le squadre quando te affronti allora facciamo l'esempio del bologna il bologna ha avuto una settimana di tempo per preparare la partita oltre di noi l'intero ha dovuto gestire due partite quando te trovi soprattutto queste squadre che hanno una settimana di tempo per studiarti cioè sanno tutto di quello che fai perché sanno che al sessantesimo in zaghi cambia toglie l'esterno mette l'esterno cioè sono già iper organizzati per affrontarti differente invece quando l'allenatore fa i cambi non ti dico che stravolge la squadra perché oggi con 5 ambi cioè le riserve si possono chiamare riserve fino a un certo punto anche se ai giocatori piace partire titolare ricordati ma se te per dirti cambi modulo durante una partita cioè prima che si riassetta che si riassetti la squadra avversaria prima che si guardino in faccia i giocatori avversari prima che guardino la panchina mister questo che lo prende il centromampista gli dice il difensore occhio perché io scalo ma poi dopo prendilo te se si sposta sulla fascia cioè quando te cambi modulo porti un po di scompiglio nella squadra avversaria se mi levi il numero 9 mi rimetti il numero 9 se mi levi il numero 7 mi rilevi il numero 7 la squadra avversaria ci è organizzata queste cose in zaghi purtroppo non le fa ragazzi non ha idee non ci sono idee purtroppo a livello tattico tra l'altro ora partono sedici nazionali attenzione molto contento per carlos augusto ragazzo in cui ho sempre creduto da prima che arrivasse all'inter attenzione ci sono i video da prima che arrivasse all'inter da prima si parlasse di carlos augusto all'inter io l'ho sempre elogiato questo giocatore perché è forte quindi sono contento per la sua convocazione al brasile tra l'altro mancini ha provato in tutti i modi a portarlo nella nazionale italiana lui ha sempre rifiutato perché ha creduto nelle sue qualità e credeva nella convocazione del brasilio quindi sedici nazionali vanno via tra cui anche a cerbi sanchez ragazzi anche lì hai gente di 34 35 anni che va in nazionale ma come si fa a gestire una stagione così gente che poi è titolare inamovibile michitaria non regge due partite a settimana michitaria gente spremuta a mur limone cioè capisci ci sarebbero delle cose da sistemare indipendentemente dai cinesi che si ti ha messo una rosa sicuramente a disposizione per quello che poteva fare una rosa senza soldi perché hai venduto pagherò e hai fatto quello che potevi fare ma ci sono troppi giocatori vecchi questa squadra troppi over 30 e poi l'ultima cosa se no il video diventa troppo lungo a me di lukaku non me ne frega una sega sta bene dove sta rimpianto lukaku io non ce l'ho perché quello lì è un giocatore fa gol spesso con le squadre di fascia medio bassa che mi dirai ma servono anche quei giocatori quei giocatori lì sì ma allora quei giocatori lì che mi fanno gol solo nella fascia di controsquadre di fascia medio bassa non gli do 10 milioni all'anno non li panno 90 milioni non gli do 8 milioni di ingaggi perché il signor lukaku quando si alza il livello fa ridere e lo abbiamo visto anche l'anno scorso vuoi che ti ricordi il gol che ha sbagliato in finale l'anno scorso lo facevo anch'io quel gol lì quindi nessun rimpianto di lukaku per quello che riguarda me ma se a san silo distribuiscano 50 mila fischietti vuol dire forse sono i diversi che la pensano come me che non c'è nessun rimpianto per lukaku ciao inter